Tra poco, sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale. La regione Marche va incontro agli apicoltori in crisi, mettendo a disposizione uno stanziamento minimo di 250 mila euro. Presentata la seconda edizione di Quo Vadis, progetto di orientamento scolastico promosso dal comune di Fano. Partito il Natale Più 2019, piazza gremita di persone, ieri pomeriggio all'accensione dell'Abete in piazza 20 Settembre a Fano. Tra poco, dopo il telegiornale, torna in diretta primo cittadino con il sindaco di Terra Roveresche, Antonio Sebastianelli. Buonasera, da Occhio alla Notizia, ancora un incidente lungo la superstrada Fano-Grosseto, sempre in corrispondenza di un cantiere. Ma anche questa volta, fortunatamente, nessun ferito grave. È il secondo in poco tempo e non si può parlare più di coincidenza. Sentiamo. È il secondo incidente stradale lungo la strada statale 73 Bis, a poca distanza l'uno dall'altro. Il primo all'altezza dell'uscita di Fano Sud alcuni giorni fa e che presentano la medesima dinamica. Un mezzo fermo al lato della carreggiata, addetto alla manutenzione, che viene violentemente tamponato da un altro veicolo che procede lungo la stessa carreggiata. Sia la volta scorsa che questa è andata bene. In entrambi i casi si parla di conducenti usciti con le proprie gambie dal mezzo. Ma due casi non fanno più una coincidenza e viene da chiedersi se questi cantieri volanti vengano segnalati nel modo giusto, con tutte le accortezze del caso e se quindi gli automobilisti che sopraggiungono siano in grado di percepire per tempo il cantiere o gli operatori lungo la carreggiata. Questa mattina, attorno alle 11.30, all'altezza dello svincolo di Sant'Ippolito, una station wagon che procedeva in direzione Monte ha tamponato violentemente un furgone con cartellonistica lampeggiante fermo nella corsia in direzione Urbino della Fano Grosseto, che faceva da supporto ad alcuni operai che con un bobcat eseguivano manutenzione di alcune cunette. L'urto contro lo spigolo posteriore sinistro dell'autocarro ha mandato in mille pezzi la parte anteriore dell'auto, che si è aperta come una scatoletta di sardine, ma le conseguenze fisiche per il suo conducente sono state lievi, probabilmente anche grazie agli airbag che sono entrati subito in azione. L'uomo è uscito, seppur disorientato e dolorante al petto, da solo dall'auto ed è stato subito soccorso dai presenti che lo hanno fatto sedere sul gradrail in attesa dei soccorsi. Il conducente, anche leggermente ferito al volto, è stato trasportato dagli uomini del 118 per gli accertamenti del caso al pronto soccorso di Fano, illesi gli operai del cantiere che stavano operando in strada. Il tratto di superstrada interessato è stato chiuso dall'ANAS, con uscita obbligatoria a Serrungarina per chi procedeva in direzione Fossombrone in attesa del carroattrezzi per la rimozione del mezzo incidentato. Sul posto anche una pattuglia della stradale della sottosezione di Urbino per i rilievi di legge. Ebbene, rimaniamo su strade pericolose perché ha investito un pedone ma per paura non si è fermato ed è scappato. È avvenuto in località Brugneto di Trecastelli, in provincia di Ancona, dove una donna di 31 anni è stata urtata e scaraventata all'autostrada da un'auto condotta da un 53enne che si è dato alla fuga. Sul posto sono sopraggiunte un'ambulanza del 118 per le prime cure del trasporto a Torrette di Ancona ed una pattuglia dei carabinieri. Da un pezzo di carrozzeria e da alcune testimonianze dei presenti sono riusciti i carabinieri a risalire al colpevole. L'uomo, residente in un paese vicino, è stato denunciato ieri pomeriggio per fuga, omissione di soccorso e lesioni stradali gravi. Un altro episodio è avvenuto poi a Senigallia. Un uomo a bordo di un'auto ha causato un incidente lungo la strada provinciale arceviese e poi si è allontanato. Poco dopo però si è presentato al comando della polizia locale. Ed ora le vostre segnalazioni. I residenti della frazione di Metauriglia lamentano una scarsa attenzione per la manutenzione di una strada gravemente danneggiata dal tempo. In particolare quelli di via Pozzo Alto che non viene asfaltata, ci dicono i locali, ben dagli anni Ottanta. Sentite. La venuta di Papa Boitila a Fano è una data ben presente nella mente di molti, ma per altri residenti è un periodo ricordato anche per un'altra evenienza, molto meno spirituale, più terrena e pratica. Stiamo parlando dello stato di alcune strade periferiche che ormai non ricevono più manutenzione e che nella fattispecie l'ultima asfaltatura degna di questo nome risale proprio alla venuta del Santo Padre a Fano. Da quanto mi ricordo l'ultima volta che fu asfaltata è stata nel 1984 e da quella volta credo che sia stato fatto un intervento circa 20 anni fa con quell'asfalto a freddo, adesso io non sono un tecnico, no? Però quell'asfalto a freddo, però da quella volta è appunto questa è una strada abbandonata. Tra le altre cose questa è una strada che serve, è oltre 30 famiglie qui nella zona, quindi è abbastanza trafficata. Come vedete è piena di buche e naturalmente è anche un pericolo per coloro che transitano in bicicletta o in motocicletta. Strada Comunale Alto in località Metaurilia è una strada di intensi flussi di traffico. Oltre ad essere utilizzata da una trentina di famiglie sparse nella zona, ci sono anche attività commerciali, camping, strutture ricettive. E la stessa strada viene percorsa più volte al giorno dagli utenti per recarsi o verso Fano, passando per il quartiere della Tombaccia, o verso Marotta, passando per la statale 16. Inoltre gli utenti della strada lamentano che un altro aspetto non secondario, oltre alla pericolosità per i mezzi a due ruote o pedoni, ovvero il fatto di sottoporre i mezzi meccanici anche ad un'usura più rapida rispetto alla norma, viste le continue sollecitazioni che subiscono ogni giorno, per non parlare poi di mamme che con il carrozzino vorrebbero poter uscire di casa in tutta sicurezza. Pertanto le richieste dei residenti sono facilmente intuibili. Chiedo come mi faccio anche portavoce degli abitanti della zona di asfaltare questa strada, quanto prima, anche perché Metauriglia non può essere archiviata come una zona di lontana periferia di Fano. Tra l'altro mancano anche i rattopi e renderebbero il tutto forse un po' più gestibile. Certo, ma effettivamente anche i rattopi non è che sono una soluzione definitiva, anche perché sappiamo che con forti piogge questi rattopi saltano, quindi durano poco. Bene, le prossime immagini che vi mostriamo sono state girate sulla spiaggia del Lido a Fano e mostrano un gabbiano con le ali aperte a pancia all'aria, mentre tenta in vano di rigirarsi su se stesso e riprendere il volo. Purtroppo però per l'animale non è stato possibile, è come paralizzato, privo di forza quella necessaria per rimettersi in piedi. Una scena ripresa col cellulare da un nostro report di strada e che inutilmente ha tentato di rianimarlo. L'esemplare pare essere naturalmente sul preludio di una fine ormai certa. Sulle cause della morte potrebbero far luce i veterinari del CRAS, il Centro del Recupero Animali Selvatici, che già ai primi di settembre si erano occupati della misteriosa morte di numerosi esemplari di cabbiani in tutta la costa fanese e pesarese. All'epoca si parlò di una possibile intossicazione alimentare. Probabilmente questi uccelli di mare, che spesso si cibano anche nelle discariche, avevano ingerito qualcosa di tossico che poi li ha uccisi. Purtroppo in poco tempo la stessa cosa potrebbe essersi verificata oggi nel caso di questo esemplare morto questa mattina. Sempre a proposito di animali, ma animali preziosissimi per il nostro habitat, ovvero le api, che in questo periodo per tutta una serie di ragioni non godono di buone salute e anche la produzione di miele è esattamente alla metà rispetto a quella dell'anno passato, viene incontro la regione con la creazione di un fondo anticrisi. Le condizioni meteorologiche del 2019 sono state particolarmente sfavorevoli alle api e di conseguenza alla produzione del miele. Il freddo che è andato fino alla fine di giugno e il troppo caldo nel mese di ottobre. Questo purtroppo ha provocato una produzione scarsissima di prodotto, di miele, e questo naturalmente comporta un danno agli apicoltori. Nella regione Marche abbiamo 1700 apicoltori, 600 nella provincia di Pesero e Urbino, una produzione media stimata di 1250 tonnellate di miele nella regione Marche. Quindi è importante il quantitativo, ma è importante anche il prodotto e il fatturato di conseguenza del prodotto. Queste condizioni meteorologiche di fatto hanno creato seri problemi al settore e abbiamo approvato una mozione in Consiglio regionale che prevede uno stanziamento nel bilancio 2020 di adeguate risorse per indennizzare gli apicoltori, non solo per dare loro una possibilità economica a causa del danno che hanno ricevuto, ma anche per salvaguardare le api, perché abbiamo la consapevolezza che le api sono importanti per la biodiversità, per l'ecosistema, quindi anche ovviamente per l'ambiente e addirittura c'è chi dice che quando non ci saranno più le api ci sarà la fine del mondo. Quindi da una parte salvaguardare le api e dall'altra salvaguardare, dare una mano al settore che ovviamente ha subito gravi danni. Questa mozione è stata presentata a firma del sottoscritto e anche a firma del collega Presidente della Seconda Commissione, Gino Traversini. È stata presentata questa mattina la seconda edizione di Quo Vadis, il progetto di orientamento scolastico promosso dal Comune di Fano, dedicato a tutti gli studenti. Il servizio è di Francesco Salvago. Ritorna sabato 7 dicembre al Centro Pastorale Diocesano dalle ore 15 la seconda edizione del Salone dell'Orientamento Scolastico organizzato dal Comune di Fano, dedicato a coloro che sono prossimi alla scelta degli istituti scolastici superiori di formazione. Otto saranno gli istituti presenti che avranno l'occasione di farsi conoscere attraverso spazi dedicati a stand che resteranno aperti e attivi per tutto il pomeriggio nell'area del Chiostro. È un programma molto ricco, rispetto allo scorso anno ancora più ricco di offerte formative perché il tavolo dell'orientamento della città di Fano ha pensato di allargare gli inviti a più istituti e indirizzi presenti nel nostro territorio, non solo quelli di Fano. Il criterio di scelta è stato quello spinto dalla volontà primo di allargare per dare una maggior possibilità di informazione a famiglie e ragazzi e anche con il criterio di allargare a quegli istituti assenti nel nostro territorio fanese e a quegli indirizzi assenti. Il progetto Fano Orienta Covadis è stato condiviso con il tavolo orientamento città di Fano istituito nel comune ma anche con il provveditorato al fino di ampliare l'opportunità formativa dei ragazzi del territorio per una scelta consapevole sul proprio futuro a fronte anche del fenomeno di abbandono scolastico. Il problema principale è che un ragazzo che abbandona la scuola spesso porta dietro dei problemi motivazionali e di autostima che naturalmente non giovano poi nella scelta di un ulteriore percorso formativo. Quindi noi consigliamo sempre di prendersi del tempo per poter capire meglio quali sono le attitudini, le vere inclinazioni del ragazzo. Quindi questo momento dell'orientamento diventa fondamentale in questo range di età proprio per fare un ragionamento e capire quali sono le proprie attitudini, i propri talenti, le proprie aspirazioni e poter scegliere in maniera consapevole il proprio percorso formativo e poi lavorativo. Durante il pomeriggio dedicato all'iniziativa sarà possibile confrontarsi con uno psicologo formatore a disposizione per ulteriori informazioni. Paola Blasi, 50 anni, ex consigliera comunale di Piobbico, è deceduta ieri in un ospedale di Muraglia dove era stata ricoverata, sconfitta da un male che non gli ha lasciato scampo. Paola, di professione impiegata, per 5 anni sotto l'amministrazione Mocchi si era impegnata da consigliera comunale soprattutto nell'ambito del sociale, suo campo elettivo e dove ben presto è stata ben voluta ed apprezzata da tutti. La proloco locale ha annullato una manifestazione teatrale che avrebbe dovuto tenersi nella serata di ieri in segno di vicinanza di Cordoglio verso la sua famiglia. I funerali di Paola Blasi, che lascia tre figli di 23, 13 e 10 anni, si svolgeranno domani pomeriggio alle 14.30 nella chiesa di Santo Stefano. E domani a Urbino, nel teatro Raffaello Sanzio, una pièce, una performance teatrale con protagonisti, tante persone e un chiaro esempio di inclusione sociale. Sentiamo. Domani, ricordiamolo, martedì 3 dicembre ricorre la giornata internazionale delle persone con disabilità e in Urbino, tra vari appuntamenti, come amministrazione comunale abbiamo voluto creare questo spettacolo a Teatro Sanzio alle ore 21, ingresso libero e quindi invito chiunque a partecipare, dove sul palco ci saranno non persone differenti, ma persone che fanno la differenza, artisti particolarmente abili, li abbiamo chiamati, che balleranno, che si esibiranno, che parleranno di sé e magari dei libri che hanno scritto, perché ricordiamoci, ci saranno Ivan Cottini, che ballerà insieme a Bianca Maria Berardi, ma anche Manuel Lanniballi, che danzerà la pizzica, un altro gruppo di danza, Manuel De Marc, anche lui fanese, che è l'artista che realizza penne bellissime, Giorgia Righi, che ha scritto un libro, poi sarà l'occasione per premiare il gruppo integrato di volley che ha vinto il campionato nazionale e altri giovani che si sono distinti nello sport. Una serata di festa, di riflessione, di spettacolo, perché bisogna abbattere le barriere fisiche, ma anche mentali, gli stereotipi che troppo spesso abbiamo in testa. Natale diventa il momento in cui, sì, è bene riflettere anche su questo, e lo faremo anche con un appuntamento delle iniziative natalizie, che sarà il 14 di dicembre, e che sarà interamente organizzata e dedicata alle persone che fanno la differenza, ripeto, con un'iniziativa ad hoc tutto il pomeriggio, che vedrà anche Rota ridonare un particolare mezzo, che è Joelet, che consentirà di percorrere le vie dei presepi anche a chi ha problemi motori, e quindi faremo questo percorso tra le vie dei presepi, tra i vicoli e le piole, anche con chi ha qualche difficoltà in più per festeggiare insieme il Natale. E sempre a proposito di Natale, ieri sera una piazza 20 Settembre gremita per la cerimonia di avvio del Natale più e l'accensione dell'albero. Ha seguito per noi l'evento anche Simona Zonghetti. Vedete nel prossimo servizio tutti i particolari di questa cerimonia così interessante. Con uno spettacolo suggestivo di luci, musica, lingue infuocate e coriandoli è stato acceso domenica primo dicembre l'albero alto, 15 metri, in piazza 20 Settembre a Fano. Intorno alle ore 18 le luci della piazza si sono spente e a illuminare migliaia di fanesi e turisti presenti ci ha pensato alla voce di Clarissa Vicky, cantante professionista, che ha intitolato Silent Night. A salire sul palco, subito dopo, l'attore Eugenio Fabri Emanuelli che ha interpretato una bellissima storia raccontando la preparazione dell'albero di Natale per i suoi bambini. Accompagnati da un fisarmonicista, ballerine, acrobati e fontane scintillanti hanno poi dato il via allo spettacolo realizzato da Ultrasound Eventi che Fano TV ha trasmesso in diretta sul canale 17 del Digitale Terrestre e sulle pagine social. In un crescendo di musica ed emozioni sono state accese le migliaia di LED del grande abete. Lo show inaugurale, intitolato Sogno di Natale e condotto dall'impeccabile giornalista Lino Balestra è proseguito con un altro brano natalizio. Bellissima, bellissima! Riusciamo anche noi a avere il nostro albero finalmente, vero? Non come quello degli altri anni che aveva creato un po' di polemiche. Questo vi piace? Questo è molto più bello. E credo che ci sia una bella famiglia che sta facendo in questo momento il primo selfie con l'albero acceso. Buonasera! Ciao! Di dove siete? Di Fano. Vi piace l'albero? Vi è piaciuto lo spettacolo? Veramente, bellissimo! Sì, sì, rispetto agli altri anni è molto bello. La magia dell'accensione dell'albero del Natale Più è stata preceduta dai saluti istituzionali del sindaco Massimo Seri e dell'assessore Etienne Lucarelli, emozionati nel vedere anche quest'anno la piazza gremita di persone. Ci abbiamo investito molto perché Fano meritava un evento e un'organizzazione come questa. Tantissima gente, ma soprattutto c'è sostanza. 50 giorni di programma ricco che guarda un po' tutte le sensibilità, dai bambini ai genitori ai nonni. E questo è per chi vive la città ma anche per chi decide di venirci a fare una passeggiata. Colgo che l'occasione per invitare tutti a venire a Fano, a fare almeno una passeggiata e gustarsi queste emozioni che offre per queste festività. Il comune e la grande rete di associazioni, ha commentato invece ai lucarelli, hanno lavorato insieme come una grande famiglia e per questo il risultato è stato qualcosa di straordinario. Tante associazioni che si spendono per poter regalare un pezzettino della propria creatività e quindi fare in modo che tutta la comunità possa vivere a pieno il Natale. Ecco, noi idealmente ci piace unire tutte le caratteristiche della città, tutte le associazioni, gli enti, le fondazioni per realizzare queste attività e far vedere cos'è veramente Fano. Grande soddisfazione anche per la Proloco di Fano, braccio operativo dell'amministrazione comunale. Tanta gente in piazza, quando c'è tanta gente c'è anche un attimo di apprezzione per chi organizza, per chi ci mette la faccia, per chi ci mette la firma. Oggi abbiamo anche tanti turisti, abbiamo due o tre pullman, uno da Pescara, uno da Perugia. Tanta gente comincia a avvicinarsi a questa città che secondo me può solo crescere e noi ci mettiamo del nostro, nel senso che ritengo che questi ultimi anni il Natale a Fano sia cresciuto. Per un bene per i commercianti, perché il centro storico non deve morire. Il programma di ieri è stato preceduto sabato da diverse inaugurazioni, a partire dal Magic Sand, il Natale tra le sculture di sabbia e dalla maxipista di pattinaggio sul ghiaccio. Vi piace o no questa pista di ghiaccio? È divertente! Moltissimo, moltissimo! Tanto, tanto! A bordo del trennino Brico Center Express è stata poi raggiunta la via dei Ciliegie e dei Bambini, trasformata ad hoc con addobbi, mercatini e il grande albero di Serri del Signore. Qui, ad attendere i più piccoli, ci saranno l'Elfo più, l'Elfo meno e Babbo Natale in persona. Ebbene, chiudiamo questa edizione del lunedì come di consueto con lo Sport, la pagina sportiva dove Matteo Del Vecchio ci erudisce su tutto quello che è accaduto nel fine settimana. Tanto tuono che piove. L'ottava sconfitta consecutiva accosta la panchina Gaetano Fontana, che da oggi non è più l'allenatore dell'Alma Juventus. La notizia era nell'area già da un po' e l'1-0 interno subito ieri per mano della Fermana, in un mancini disertato dai Panthers, ha portato la società a prendere la decisione, nella speranza che sia la molla, per dare una scossa ad una squadra la cui involuzione anche ieri è apparsa evidente e che dopo 17 giornate non ha ancora mai vinto tra le mura amiche. Più Fermana che Alma nel primo tempo, anche se il gol partita arriva ad inizio ripresa, a segnarlo i Cognigni, che al terzo minuto sbuca tra Viscovo, Di Sabatino e Gatti e mette dentro lo spiovente di D'Angelo. La reazione del Fano seppurvemente è abbastanza confusionaria e al game over la squadra granata si prende anche i fischi degli Ultras, che diversamente dai Panthers avevano preso parte alla sfida. In attesa di conoscere chi siederà sulla panchina fanese già da domenica, i rumors parlano di due cavalli di ritorno come Alessandrini e Cuttone, la classifica è inesorabile. Fano ultimo a 10 punti con il peggior attacco e la peggior difesa e domenica si va a Cesena, squadra reduce da sei risultati utili consecutivi. Periodo nero anche per età beta nel campionato nazionale di Serie B di calcio a 5. La formazione di Mr. Mariotti sabato contro gli Emiliani del Bagnolo è incappata nella quarta sconfitta consecutiva e ora i punti di vantaggio dall'ultimo posto sono solo tre. Colpa dei soliti errori difensivi e della solita poca precisione sottoporta. Il provvisorio 2-1 di Lorenzete rianima la ripresa dei fanesi che non riescono però ad impattare e a 50 secondi dal termine subiscono il definitivo 3-1. Vince invece il buldo Lucrezia che nel campionato di Serie A2 sabato piega la resistenza della Lazio di fronte al pubblico amico. Tre punti d'oro per i ragazzi di Osimani perché arrivati contro una diretta concorrente per la salvezza. 6-3 il punteggio finale grazie alle doppiette di Jamcic e Vitale e i sigilli di Duvanovic e Napoletano. Weekend dolce amaro invece per le squadre nostrane che militano nei campionati professionistici di volley. Perde in Serie A3 la Givan Virtus che a botta di livenza soffre i padroni di casa paga alcune dubbi e decisioni arbitrali ed è costretta ad arrendersi per 3-1. Bella vittoria e ottima prestazione in B2 invece per la BCC Fano Pedini che torna alla vittoria con un secco 3-0 casalingo sulla Faroplast School Volley Perugia. 27-25, 25-19 e 25-20 i parziali che consentono all'Apav Calcinelli Lucrezia di lasciare al momento la zona calda della classifica. L'ultima notizia di questa sera arriva da Palazzo Montani Antaldi di Ancona dove sabato si è svolta la consueta cerimonia di premiazione del CONI per l'equitazione premiata Chiara Papalini della SD Equus che si è imposta nel campionato italiano assoluto. Addirittura 10 invece le premiate per la ginnastica ritmica tutte portacolori dell'Aurora Fano Martina Pazzaglia, Aurora Sabatini, Alessandra Nicolini, Sofia Pozzi e Viola Pallotta per aver vinto il titolo italiano nei 5 cerchi e ancora Elisa Badioli, Giulia Della Felice, Camilla De Luca Giulia Sanchioni e Martina Pasquini per gli ottimi risultati nella specialità Nastro. Importantissimo riconoscimento nazionale nella disciplina del tiro a segno per il fanese Alessandro Armani della tiro a segno pesano mentre applausi e premi per Lorenzo Marcantonini il sedicenne che dopo aver partecipato ai mondiali di calcio con la nazionale Amputati si è imposto sulla distanza dei 400 piani nella sesta tappa del World Paratletics polverizzando il record iridato della categoria. Premiati inoltre Marco Gaggi, giovane pilota fanese che ha positivamente esordito nell'European Talent Cup e Francesca Sgorbini, atleta cresciuta nella SD Formiche Pesaro e nazionale di rugby. Fano esulta anche per il prestigioso premio regionale Trofeo Coni 2019 andato agli atleti Asia Volpi e Giuseppe Provino portacolori della SD Fanum Fortune Scherma e per la stella al merito sportivo di bronzo andata alla Virtus Volley. E per i tifosi dell'Alma vi diamo un'ultima ora e di poco fa la notizia che come anticipato nel servizio di Matteo Del Vecchio sarà Marco Alessandrini il nuovo mister dell'Alma che torna a Fano per la quarta volta dopo l'esordio nella stagione 92-93 e i due secondi posti nella stagione 2014-2015 e 2015-2016 e quindi un grosso in bocca al lupo al nuovo mister del Fano. Ed ora prima di salutarci vi apriamo il nostro album di famiglia facciamo gli auguri ai coniugi Italo e Mariella Boiani di Fano che hanno festeggiato i loro 60 anni di matrimonio insieme ai figli e ai cinque nipoti ed ovviamente non potrebbe essere diversamente un grosso augurio speciale anche da parte di tutti noi di Fano TV. Siamo arrivati in fondo e quindi mi preme ricordarvi che dopo di noi ci sarà primo cittadino come di consuetudine il lunedì ospite della puntata assieme a Simona Zonghetti il sindaco di Terre Roveresche Antonio Sebastianelli come sempre potete intervenire in diretta utilizzando il numero di telefono fisso 0721 861433 oppure inviare domande o quesiti tramite sms o whatsapp al 338 49 68 250 Bene, grazie per essere stati in nostra compagnia l'informazione torna domani mattina alle ore 7 con occhio ai giornali ed ora primo cittadino Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti